Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Negli scorsi giorni, come saprà chi sta seguendo il caso della bambina scomparsa a Firenze, lo zio della piccola Cata è stato arrestato. L'arresto dell'uomo, di nome Abel, però, non c'entra niente con la scomparsa della bambina. Ma è proprio di queste ore una notizia che ha destato intenso clamore mediatico, e che forse nessuno si sarebbe aspettato. Già nelle scorse settimane una pista simile era stata presa in considerazione dagli inquirenti, ovvero che la bambina fosse stata portata all'estero. Si era infatti pensato che la bambina fosse stata portata in Romania, ma una recente telefonata ha fatto insospettire di molto gli inquirenti. Secondo quanto scrive il Quotidiano Repubblica, la bambina potrebbe essere stata trasferita in Sud America. Da quanto si è appreso il nonno di Cata, recluso in una struttura penitenziaria in Sud America, avrebbe chiamato il padre della bambina per dirle che la piccola si trova in Peru. Della telefonata, di cui lo stesso padre di Cata aveva fatto menzione davanti agli inquirenti negli scorsi giorni, ci sarebbe anche una registrazione. Adesso sono stati avviati contatti con le forze di polizia peruviane, nella speranza di rintracciare anche il più piccolo segno di passaggio della bambina.